Una staffetta attraverso i luoghi della memoria per celebrare il 25 aprile e ricordare la resistenza al nazifascismo. Tedofori, gli atleti della Polisportiva di Mandello, accompagnati dai ciclisti del Bike Team Mandello, di corsa fino a Fiume Latte in memoria dell'uccisione di sei partigiani della 55esima brigata, fratelli Rosselli. Abbiamo deciso assieme all'amministrazione comunale, all'archivio locale e a memoria locale di estendere le manifestazioni coinvolgendo anche i giovani e gli sportivi. Quindi una fiaccolata che estenda alle giovani generazioni in particolare al mondo dello sport i valori della liberazione, della resistenza e di una Costituzione che in questi giorni con la guerra in Ucraina che noi condanniamo fermamente assume maggiormente i suoi valori di libertà. Andiamo a Fiume Latte di Varenna perché c'è una targa degli itinerari della memoria che ricorda sei partigiani fucilati l'8 gennaio 1945 dalle Brigate Nere di Bellano. L'archivio comunale ha curato dal 2005 gli itinerari della memoria che sono a Mandello e sono su tutte le grigne da Lecco fino a Colico. Quindi questa è una tappa del decimo itinerario della memoria che si trova su questa guida che regaliamo ai ragazzi oggi, partigiani sulle grigne e nuovi itinerari della memoria. Quindi l'itinerario 10 passa da Bellano, da Fiume Latte e i ragazzi vedranno una delle targhe degli itinerari della memoria, oltre ovviamente alla lapide che ricorda questi caduti. Un 25 aprile diverso, Mandello celebra il ricordo di questo giorno importante con una marcia, una fiaccolata, un cammino che coinvolga soprattutto i giovani. Sicuramente abbiamo aderito come comune di Mandello dell'Ario con entusiasmo a questa iniziativa promossa dall'Ampi provinciale e insieme alla polisportiva Mandello, al Baitin Mandello e ai ragazzi della sezione atletica abbiamo organizzato tutti insieme questa manifestazione che vuole ricordare i caduti della seconda guerra mondiale, fra cui c'è anche un mandellese Paso Domenico. Grazie a tutti.